C'è una donna su Marte? Punto interrogativo. È questa la domanda che moltissimi internauti si pongono, che sta letteralmente girovagando su web e che è diventata virale. Infatti nella foto si vede la superficie marziana che ha al suo interno diverse rocce di dimensioni diverse tra di loro e spicca nella foto in questione una roccia tra le tante che ci sono che ha raffigurato una quasi forma femminile. Sembra quasi di essere una donna. Una donna addirittura che si trova sdraiata, quasi a immortalarla. È una foto che possiamo considerare come emblematica. Lo scatto è stato realizzato da parte di qualcuno, ma ci sono già tanti ufologi, tra cui Scott C. Worling, che ha condiviso la foto in questione della NASA risalente al 1969. Una foto, ripeto, che ha ottenuto una viralità incredibile, specializzate 100.000 visualizzazioni in pochissime ore in poco tempo. Questo sta a significare che la curiosità umana non ha limiti di alcun tipo. Bene, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti!